Salve a tutti da Machinima Allora, questo video l'ho realizzato per comunicare dei messaggi Allo staff, no, non allo staff, a tutti coloro che seguono Machinima Stacca! Lass! Schnell un uozzone per schiena! Fra poco lo scena a trovare un utente che carica le guide di Assassin's Creed Brotherhood Brotherhood, 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 Brotherhood E se su nostro canale troverete un suo video, state certi che non l'abbiamo... Was ist das denn? Oh, mein Gott, was ist geschehen? Ich l'anrisch verspielen! Ah! Schnell un uozzone! Jetzt geht's los! 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 Twentycuno! illo